Prosegue il momento d'oro del Copreglior Volley Piacenza che ieri sera Ravenna ha superato i padroni di casa nel recupero della quarta giornata di ritorno. Una vittoria che proietta i biancorossi a 48 punti a una sola lunghezza dalla capolista macerata. Complice anche un po' di turnover che vede in panchina Zlatano Vefei, i biancorossi partono male e lasciano Ravenna il primo set, perso addirittura 25-15. Poi la corazzata di Mister Monti si sveglia e trascinata da un ottimo Papi si aggiudica sul filo di lana il secondo parziale 29-27. Anche nel terzo set l'equilibrio è sovrano, a spezzarlo ci vuole addirittura una bomba del paleggiatore De Cecco dalla seconda linea. E' invece Simone il protagonista del quarto e decisivo set che Piacenza chiude 25-22, 3-1 risultato finale. Domenica i biancorossi andranno a Molfetta, poi il Copreglior cercherà di imitare le colleghe della Rebeck in ormeccanica. Sabato 8 marzo infatti al Paladozza di Bologna sarà tempo di Final Four di Coppa Italia con l'eterna rivale Trento in semifinale.